Oggi amici vorrei sentire i vostri commenti che sono sempre più numerosi su un tema molto ampio che è quello della wearable technology, la tecnologia da indossare. Ci concentreremo in particolare su quella che riguarda l'occhio umano. Non parleremo di Google Glass, ne parlano tutti, andremo a vedere delle cose molto più originali. Immaginate adesso, amici, che rivoluzione potrebbe essere quella per cui noi ci regoliamo da soli il focus delle nostre lenti. È una tecnologia che è stata sviluppata fra Hong Kong e Oxford. Ne ha parlato David Pogue, che è un osservatore molto severo, gli ha dedicato una pagina intera su New York Times. Il progetto di questa azienda, che si chiama AdLens, si basa sulla Fluid Compression Technology. Ma c'è questo filmato che vi spiega tutto, guardate e commentate. La visione è una cosa complessa, ma è anche molto semplice. È sui due occhi che vengono in una parola parola parola. La storia di AdLens mirro la storia di visione. È sui costruzzi di costruzzi di prodotto innovazione, ma è anche molto semplice. È sui migliori livesi con una visione migliori, e le cose che vengono per farlo. AdLens è stata fondata in 2005 a James Chen, a Hong Kong-based businessman e philanthropist, e Joshua Silver, a professore di Atomic Physics at Oxford University. Bothi men saw that adaptive optics could transforme the way the world sees, and they carried that belief into philanthropic works in the developing world. That this technology could change lives for the better was obvious, but true innovation must go further. I believe that lasting change in the developing world can only come through designing and making products that people desire, products that are commercially successful. Today, AdLens is the leader in the development of a new category, Variable Focus Eyewear. Right now, almost 100,000 people around the world are wearing AdLens glasses across two different lens platforms, Alvarez and Fluid Filled. We made Alvarez to provide infinitely adjustable instant vision for anyone in extreme situations. Fluid Filled is fun, it's cutting-edge technology and it's already popular in Japan. These two technology platforms are developing rapidly to meet the needs of our consumers. And soon, there will be a third. We're working now on the next generations of the technology. We want to combine adjustable lenses with prescription eyewear to provide the users with clear, near and distant vision. The users will then be able to adjust their whole lens for clear vision at any working distance, at any time. And then, after the lens in which focus is regulated, we're working on another product that was just launched by Intel Capital, which is a Google Glass for athletes and professionals. It's been produced already in 50.000 pieces and distributed. It allows, without using the hands, even in extreme situations, to have all the information that we need in that moment. They cost $599.00, they weigh just 28 grams, they have all'interno a dual-core processor of 1 GHz, Wi-Fi, obviously, accelerometer, GPS, e girano anche i video in alta definizione. Ecco il filmato. I'm a Mto, iΞ, i agon чувств, случreatene levels of medial stabilization. Evreee, iCaNMW, iCaIニcLV ICH, iim iCaNMW, iAW, iSCaNMW. iCaNMW, iCaNĩH. Cofodafone, iCaNMW, iCaNMW. I Ricoh, iCaNMW, 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 iCaNMW. Grazie a tutti. Grazie a tutti.